Buon perfetto. Alex, se vuoi... Vai bene. Complimenti. Prima da titolare ci hai messo neanche due minuti per fare il tuo primo ruolo con la maglia biancosa. Vabbè, sicuramente fa piacere, però alla fine sono un pio di schiacciuto perché potevamo prendere qualcosa di più di questa partita. Sapevamo contro chi giocavamo, sapevamo come gioca il Catanzaro. È una squadra che piace giocare per cui eravamo molto attenti sui spazi in mezzo. L'abbiamo così bene, però alla fine secondo me dovevamo portare a casa un po' di più di quello che abbiamo portato. Una prestazione che però sicuramente dà molta fiducia per la lotta a salvezza. Sì, siamo sempre lì. Siamo sempre lì finché non è matematicamente. Dobbiamo combattere, dobbiamo lavorare ogni giorno sempre di più e alla fine essere squadra. Perché in questi momenti, in queste situazioni essere squadra è più importante di qualsiasi qualità. Fisicamente, come stai? Sei uscito dopo 62 minuti? No, stavo bene, finché non sono uscito stavo bene. Cioè, stavo due settimane, avevo tanta tosse, avevo un virus, per cui adesso sono tornato a piena disposizione. Per cui adesso ci sono. Buongiorno. 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 Per cui ci aiutiamo molto in campo, ci sacrifichiamo uno per l'altro e alla fine, come ho detto, sono un po' dispiaciuto perché oggi dovevamo portare qualcosa in più di quello che abbiamo portato a casa. Ecco, dopo il 2-1 di Catanzaro c'è stato un momento di spandamento, sono pare dei rischi seri, però ho detto il merito di non portare, cioè si è rimasta in partita e poi la prima volta. E' normale, Catanzaro è una squadra che gioca bene, che vuole sempre giocare e iniziare anche con i portieri, inizia il gioco da dietro, gioca bene con i propri centrippisti, gli esterni sono bravi, veloci, hanno una punta di riferimento brava a essere lì in appoggio, per cui è una squadra, secondo me, brava nel paleggio e metterti in difficoltà negli ultimi 20-30 metri. Per cui è normale che ci siano dei momenti della partita che vai un po' nella difficoltà, se no sarebbe troppo facile, ma alla fine per ottenere i risultati bisogna anche soffrire un po'. Noi abbiamo sofferto, ci siamo coperti bene e alla fine, come ho detto, potevamo prendere qualcosa di più. Da un punto di vista personale, quello che aspettano da questa regione, a giugno ci sono gli europei? Sì, ci sono gli europei, però adesso sto pensando solo sul Tirono e arrivare al massimo di quello che possiamo fare. Secondo me possiamo fare molto di più, perché siamo tutti bravi ragazzi, disposti a lavorare, lavoriamo tanto, lavoriamo bene e per cui dobbiamo prenderci quello che ci meritiamo, ma per prenderci quello dobbiamo dimostrare in campo che ci siamo. Grazie. 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 Grazie.